Presidente, si è innescato un processo positivo nelle Marche per quanto riguarda la volontà di donazione degli organi, com'è la situazione? C'è questa possibilità con la carta d'identità di poter manifestare la propria adesione a quest'atto di donazione ed è stato un meccanismo incentivante che già ha messo in moto un risultato. Sono oggi 65 i comuni che danno questa opportunità ai cittadini, coprono come popolazione più della metà delle Marche, il 58% dei marchigiani e già oltre 7.000 persone con questo meccanismo hanno dato quest'atto di disponibilità. Capiamo il valore della scelta e il frutto di una collaborazione fra diverse istituzioni che coinvolge sempre di più il cittadino in un'azione importante per il sistema marchigiano.